Un applauso! Come siete belli! Rita, buonasera! Buonasera Matteo, buonasera a tutta la platea. Grazie di cuore di essere tutti qua con noi. È emozionante perché è passato tanto tempo dall'ultima volta che abbiamo festeggiato il compleanno di Ale nell'ultimo Hip Hop Palais del 2019. È emozionante perché è una reunion e ci sono tutti gli amici che ci hanno sostenuto fin dal primo giorno. E questo ci riempie il cuore di tantissima gioia e di tanto amore. Stasera, prima di dare il momento per le danze e per la musica, proietteremo il film Resilienza. Vi racconto solo questo aneddoto particolare. La prima volta che ho sentito questa parola è stato a Genova, all'ospedale Gaslini, quando Alessandro mai aveva, diciamo, ci avevano detto che non c'era più niente da fare. È stato seguito da una psicologa, Francesca, che l'ha accompagnato e è stata molto importante per noi e per lui. E lei ha cominciato a intravedere in Alessandro questa dote che è veramente una qualità importante, che è la resilienza, che è la capacità proprio di trasformare le cose negative, non trasformarle ma vedere la parte positiva in tutte le cose negative che ti succedono. E Ale aveva davvero questa grande capacità. Un giorno ne ho parlato con Paolo Ruffini, che era già dapprima un nostro amico, e lui mi ha detto, prova a scrivere, scrivi e poi guardiamo cosa si può fare. Io, in un viaggio da Milano a Cecina, ho scritto un mini trattato di questo film, poi l'abbiamo riguardato insieme con Paolo e poi è nato questo bellissimo film che racconta della resilienza di Alessandro, ma racconta anche tante cose che accomunano i bambini malati oncologici. E quindi è stato importante. L'unica cosa di cui vi volevo avvisare è che il film che è stato dedicato a Alessandro e parla della sua storia, è stato aggiunto, sono state aggiunte due testimonianze di altri due attori che però non ci sono stasera, quindi è una storia, è la sua storia e volevamo dedicarla a lui. Grazie. Grazie Rita. Antonio. Matteo, dimmi, dimmi te. No, raccontaci un aneddoto, visto che anche tu sei uno dei registi di questo film che andremo a vedere, o comunque una persona che ha dato un grande contributo e tuttora ci sta regalando questo sogno, perché ricordiamolo, Antonio è anche il presidente, se non sbaglio, sui passi di Ale. Un applauso per il presidente! Facciamo un grande applauso! Quando posso delego ai miei genitori comunque. AX.